E' da tanto che non ci vediamo, ti vedo cambiato. Sono cambiato tantissimo, adesso sono molto più consapevole su quello che ci nascondono i medici e la mia salute ne ha trovato. I medici? Sì, ad esempio ci tengono nascosto che lo zucchero è un veleno che ti fa ammalare, ci sono tantissime persone che spendono tanti soldi in medicine, lo Stato spende miliardi e gli ospedali incassano ingenti fortune ogni anno, tra l'altro queste medicine sono esse stesse veleno inutile che non curano la causa ma alleviano i sintomi, così da tenerti malato sempre e comunque. Per questo io uso i farmaci omeopatici. E così lo zucchero fa male ma i medici non ce lo dicono per costringerci a prendere medicine, ma tu non prendi né zucchero né medicine e ti curi con l'omeopatila. Esatto, guarda come sto bene adesso. Non sai che le pastille omeopatiche sono fatte di zucchero al 100%? Non sai che le pastille omeopatiche sono fatte di zucchero al 100%? Non sai che le pastille omeopatiche sono fatte di zucchero al 100%?